Ciao a tutti, ora vi mostro lo shopping su Ecco Bio che ho fatto per Claudio. Nel precedente video vi ho mostrato quello che ho fatto per me e ora vi mostro quello che ho preso a Claudio. Allora ho preso 5 produttini che volevo provare, alcuni li conoscevo già, tutto bio, vi mostro. Il primo di Akamuti è questo qui, ed è un bagnoschiuma bedtime baby, quindi per la notte, ha un effetto calmante, appunto si mette nell'acqua e serve per rilassare il bambino, per il bagno serale. L'odore sinceramente non mi fa impazzire, poi è diviso così, vedete? Cioè la parte oleosa è la parte più cremosa, ora non so se è normale, perché questo è un altro di quei prodotti che è arrivato aperto nel pacco, se non sapete di cosa sto parlando vedete il mio video precedente. Non lo so, l'odore non mi fa impazzire, spero non ci sia entrato nulla, non so neanche se deve essere così. Vabbè, ed è dell'Akamuti. non so se voi lo conoscete, l'avete provato, magari mi dite se è normale una cosa del genere. Boh, vabbè. Poi ho comprato della Veleda, questa qui. Questa non l'avevo mai provata, ed è una crema viso alla malva bianca, senza profumazione. è carina perché è una confezione appunto piccolissima da viaggio, ed è una crema idratante che calma le irritazioni per il viso, vero amore? È genitiva e tutto, ecco. Voglio provarla appunto sul viso perché Claudio ogni tanto ha queste bollicine qui, dovute hai troppi baci che mi diamo, poi Marsev, diciamo così, questa, della Veleda, la calendula, la crema alla calendula, questa è proprio la numero uno, io la uso ovunque, anche sul viso prima di provare quella, mi trovo bellissimo, cioè toglie veramente tutte le irritazioni da pannolino, secondo me è la migliore, se ne conoscete altre allo stesso livello, ecco, magari scrivetemelo qui sotto, però secondo me io ho trovato che questa sia la migliore crema in assoluto pannolino, cioè non ce ne sono altre per me. E poi ho comprato della Bio Bio Baby, questo sapone, ed è praticamente un sapone liquido dermatologicamente testato alla camomilla biologica, delicato per l'igiene quotidiana, arricchito con estratto biologico di camomilla, questo è fatto a salsomaggiore terme, senza allergeni, ho iniziato ad utilizzarlo, sapete quando dovete farvi lavare le manine oppure quando dovete cambiarlo al volo e dovete sciacquarlo, ecco un attimo, questo io penso sia la soluzione ideale, poi con il dosatore così è comodo, perché altrimenti ogni volta con il beccia schiuma, il bagno schiuma io mi trovo scomoda, invece per un cambio di pannolino rapido, per le manine, con il dosatore così mi trovo benissimo. Ecco il bimbo mi reclama, io ho finito, vi ho mostrato al volo questi prodotti, poi magari vi faccio una recensione più approfondita, quando inizio ad utilizzarli veramente, però questo è il mio shopping da eco bio per Claudietto. Ciao!